bella a tutti ragazzi qua Memories bentornati sul mio canale oggi vi ho portato un ospite che non è speciale di più non è Dexter non è nel palaz no 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 è un campione il campione dei campioni bella bella ragazzi ciao a tutti no 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 non hai capito sul canale mio devi presentarti con il tuo saluto e io mi presenterei con il mio saluto ma sono già entrato in serie quindi ecco è entrato in serie? sono grepato quindi ok ok adesso puoi salutarlo sono già grepato vuoi dire ciao campioni? no 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 ecco è esector però ragazzi come se il vostro esector che parla allora possiamo anche stoppare il video ci sentiamo la prossima bella abbiamo abbiamo sentito questo io intanto mi grattavo il naso e avevo ammazzato un cristiano quindi ok in pratica quando ho un gioco da quando l'isanna è approdata su video poco buono buono direi fantastico allora incredibile torniamo su Black Ops torniamo su Black Ops dopo quanto dopo tanto dopo tanto 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 ma io dopo la vita mamma mia ma tu sei un campione tu ci può stare ma noi non sappiamo giocare noi ci arrangiamo noi ci arrangiamo però quella guarda che mi sa so far meglio di te no non è vero prove mamma mia col cecchino mamma mia con la n dobbiamo andare a prendere c'è un tizio c'è un tizio c'è un tizio lì ah non lo posso segnalare comunque ok allora il messaggio in live vogliono nuclear se non c'è il nuclear tutti i tuoi iscritti passeranno a me nell'arco di tre secondi nuova sfida ok perfetto perfetto ok ma tanto conoscendoti conoscendoti ci cacciaresto nuclear no 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 davvero no no non è impossibile non ci so cosa tantissimo me ne ricordano anche momenti come si spara come si muore allora ma io ti posso dire una cosa ma questo ninfo che fa 6-1 come lo vedi eh lo vedo con gli occhi con gli occhi vabbè non lo tirerà Ese lo tireremo non nuclear non sono convinto no ok ce la siamo gufata vabbè non fa niente io sto volendo 3.000 volte per riuscire a prendermi B in mezzo perché è fondamentale dopo magari potremmo chiusarli molto facilmente su una bandiera però sentiamo i consigli di un pro comunque ok proverò anch'io a prendere B in mezzo ok sto prendendo B sto prendendo B per la gloria di tutti noi voglio una statua guarda 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 come ti prendo B guarda come ti prendo B guarda come ti prendo B arrivo bravi no abbiamo perso C però vado a prendermi alfa vado ho capito soffroci compagni eh eh anche secondo me guarda 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 che quasi nato quasi nato ma vai sto prendendo alfa sto prendendo alfa ok allora io ritorno su però ce n'è uno là in fondo ce n'è uno su di nuovo ok no non c'è più non c'è più ok posto posto di posto in pace il tizio allora nooo mi ha preso porco Tarzanello allora io ero si comunque ero convinto di fare una partita di merda però no da dietro vabbè abbiamo un po' una squadra di merda eh però ecco c'è una squadra di merda che però se ci sono io che faccio 8-4 cioè mamma mia guardali tutti appostati tutti appostati cecchini oddio che player che player ci sono di là tutti dal dietro li ho presi un po' compromettente è detta così però eh appunto poi ho capito però vabbè di là sono maschi quindi ci fossero femmine eh può essere anche eh può essere anche eh non ha detto c'è Giulio mi guarda male però vabbè quelli sono quelli sono dettagli ci ha ammazzato un tizio travestito da cacca dai dai che ti sto a partire la ricompensa della vita eccola mamma mia lo ha signori mamma mia c'è un tizio qui non è morto non è morto non è morto non è morto continuano a non morire vabbè però così non vale eh io gioco scarso se non muoiono prendiamo una bandiera e ne perdiamo un'altra c'è incredibile la squadra è troppo forte la squadra è troppo forte mamma mia che partita poi la mappa mamma mia poi la mappa è stupenda c'è da dirlo si 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 è la migliore la migliore in assoluto di percorso oddio c'è un tizio che non mi ha visto no che poi mi ha visto è morto è morto dai 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 che forse riesca prendermi il visat ok io voglio provo ad andare subì di nuovo provo ad andare subì di nuovo provo ad andare subì di nuovo ok dai che lo quasi no no niente avevo quasi presto di nuovo vabbè c'è il tizio che fa due tredici eh si c'era parecchia gente ma c'è un tizio che ha fatto due tredici sta facendo ma con noi? si con noi io sto a fare in positivo il tizio fa due tredici nooo finito i colpi vabbè meno male che metto il round ok finito il round vabbè 2.14 è vero incredibile incredibile vabbè di la 3.15 vabbè ma tu devi vieni a vedere un video che ho fatto con Dexter dove io facevo due due no due diciotto i due diciotto adesso sto a fare in positivo questo se tu che porti fortuna però noi ci abbiamo moltissime che fa due tredici solo che siamo in due in meno noi eh siamo in due in meno ah perfetto perfetto vabbè ma vabbè ma c'è non fa niente vi ritrovi ancora anche in due in meno non preoccuparti no è che vorrei riuscire a prendere il viso addirittura ecco no no che non me l'ho fatto ecco c'è un tizio sull'elicottero che portavano ok dal cielo dal cielo mi hanno preso me ne mancavano due al viso che poi gioca peccato peccato che poi gioca anche live non è facile via a no 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 l'ho visto lo sapevo mamma mia non so chi mi ha sparato ah ok sta sdraiato sta sdraiato il sole quello e non prende anche quello guarda questo come corre ma non so dove stanno aspetta eh sono tutti qua nei dintorni di bravo ok ce n'è uno hit marker non è morto la musica che cosa la musica cosa di fuori no porca miseria ma noi non riusciamo più a questa è un duel con fit jules baker fit jules baker che sta non lo so cosa sta facendo però vabbè la musica di fuori poi ride e interviene c'è un tizio no non è morto vabbè io provo provo a andare subì io oddio le triple oddio guarda che triple guarda che triple mamma mia che giocatore no il c4 mi ha tirato addosso vabbè noi detto noi una volta stavamo fa in positivo però purtroppo è colpa della squadra se noi perdiamo andiamo molto molto negativo beh io stavo provando andare a prendere a b ma impossibile sto morendo 800 volte per quella bandiera lì ah ok uno c'è morto uno c'è morto ok dai vado a prender b almeno c'ho la scusa non è morto vado a prender b almeno c'ho la scusa di morire aspetta che ho fatto il negativo gli dico no vabbè mezzo ma ho detto c'è un sacco di gente da pio eh ma non è morto eh eh guarda io prendo ma la connessione giulia fa no schifo di più peggio di sta mappa dai che squadra che squadra nessuno che va obiettivi muori non è morto oddio c4 io vado subì io vado subì di nuovo io vado subì di nuovo che lancio mi sono schiantato di faccia sull'aereo da questa morsa io li stunno li stunno no dietro e davanti mi hanno stuporato quella madonna che cattiveria mamma mia dai io sto prendendo b io sto prendendo b eh no ok resisti dai che dov'è vai le doppie e prende b e prende anche che giocatore arandom si 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 che giocatore aspetta aspetta c'ho serie problemi a salire scale sono spawnati dietro per occhio allora non so perchè che hai metto lo spawn ma io mi lancio anche nell'altra conquista dai forse ci riesco mamma mia mamma mia manco un minuto e 54 me ne manca una al visat una al visat attenzione seguiamo seguiamo le feed sotto oddio ce l'ho tutti davanti eh però sono in un posto un po' brutto io vabbè manca comunque una al visat una al visat lo scopo di oggi prende il visat grandissimo manca un minuto e 36 da b da b da b da b da b prende il visat ok ok adesso prenderemo il visat mamma mia stanno tutti qua guardali comunque vogliamo un like solo per il visat di es vabbè noi non ammazziamo più non fa niente lo scopo l'abbiamo raggiunto ha la velocità di un koala arboreo loro si avvengono incredibile che player che sono di là ma anche noi ce l'abbiamo i veri player ci sono tre teschi anche questo ha fatto una strage dai dai che riusciamo a chiuderli un po' c'è un tizio che ci spara da non so dove anche quello quello è Eze c'è un tizio che va conquistando nooo gli anticipati no ok vabbè la partita non è andata male erano in positivo quindi ok prendiamo quella positiva la tagliamo e mettiamo solo la partita positiva cioè io taglio il pezzo iniziale e la metto alla fine almeno facciamo vedere che siamo stati in positivo gli aspetti manca veramente poco ci sta ci sta ma ovvio ovvio invece Eze ci regala ai partitoni mamma mia che colpa la testa mamma mia mamma mia che giocatore no no ma anch'io stavo facendo il risultato un po' che giocatore non è morto non è morto è ancora lì sull'aereo sul caccia mamma mia a momenti a momenti vola fa il volo dell'angelo il volo dell'angelo chi è? la mossa speciale di te intanto è quasi non è morto si ok è morto è morto ce l'abbiamo fatta muori 25 da chi è che mi spara? mancano 4 secondi è finita no stavo per fare la kill chi diamo con la kill di Eze mancata però abbiamo preso il bisop ha preso il bisop hai preso il bisop ci accontentiamo un like solo per il bisop ma quanto stemma ha? è pig? è pig? lo stemma il maiale viola rosa colore un po' ambicuo ragazzi oggi è finito vi invito a lasciare un like a commentare un grazie un saluto al nostro campione Eze alla prossima grazie a voi ciao campioni ciao ciao bello